Sì, cosa sembra? Un bel pochetto! 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 Oh no! Guarda che è più facile! Un pochetto! Un pochetto! Un pochetto! Un pochetto! Vedi! Di là! Dovrebbe finire! Creta! Un pochetto! La città dovrebbe essere... La città è vicino all'Europorto! Che cosa stai dicendo? Dove c'è l'Europorto? Dove c'è l'Europorto? Due chilometri c'è la città! E di là? E di là? No! Il mitico panorama di Creta! E poi di migliorlo in più parti, ne? Sì, ma in 13 minuti Il mitico panorama di Creta! Il mitico panorama di Creta! Sì, ma in 15 minuti! Il mitico panorama di Creta! Il mitico panorama di Creta!